ciao a tutti da maurizio di moto.it benvenuti su recensito omnia racing special parts uno dei più grossi portali al mondo di commercializzazione di prodotti e parti speciali per motociclette di tutti i tipi ci ha mandato in visione questo kit di protezioni per carter motore dell'inglese gb racing in questo caso abbiamo un kit per ninja zx 6r di cosa si tratta andiamo subito ad aprire il pacchetto in modo da mostrarvi di cosa si tratta dicevamo è un kit che è componibile sia singolarmente quindi potete acquistare anche solo una di queste parti oppure comprarlo completo quindi comprare il kit dedicato alla vostra moto dicevamo sono protezioni per i carter motori sono realizzati in nylon sono molto resistenti e lo si percepisce anche provando a muoverli quindi hanno una grande capacità una forza alla torsione ma anche sono molto resistenti all'abrasione guardandoli da vicino se si nota un'ottima fattura sia interna sia esterna ma l'importante è l'esterno e poi si possono notare queste boccole d'acciaio annegate in modo da rendere più sicuro il serraggio poi sempre all'interno del pacchetto troverete anche le viti quattro viti in acciaio inox in questo caso in questo caso sono quattro potrebbero essere anche di più dipende ovviamente dalla dalla vostra moto l'importanza di questi copri carter lo possiamo subito capire guardando come vengono ridotti i carter dopo una caduta guardate che resistenza impressionante che hanno ovviamente esteticamente il carbonio o il kevlar appagano di più alla vista però quello che è importante è la resistenza quindi il nostro consiglio è di puntare soprattutto se usate la moto in pista a dei prodotti come questi perché il carbonio e il kevlar sono si belli ma si consumano facilmente e anche nel posizionarli è meno preciso il posizionamento detto questo il kit completo per moto stradali partono il prezzo parte da circa 160 euro un'altra cosa molto importante è che non richiede alcuna modifica ovvero i copri carter vengono posizionati sul motore senza dover smontare niente infine il nostro consiglio è di andare a vedere il catalogo di omnia racing che come potete parzialmente vedere è davvero completo c'è di tutto dalle marmette alle impianti frenanti le sospensioni e gopro impianti di scarico dicevamo pedane carene c'è davvero di tutto quindi andate a vedere il sito ovviamente non in orario di lavoro perché vi garantiamo che ci passerete le ore quindi magari la sera e detto questo vi salutiamo e vi rimandiamo alla prossima puntata di recensito ciao a tutti da morizio